Buonasera a tutti e benvenuti con Gnovis. In Friul, Vinesi e Iulia un caso di positività su 3 al Covid, all'eleata la variante Omicron. A Lecce Calzate Furda l'attività di sequenziamento fatta fino ai vinti assisti dicembre su passe 1000 cash. Se la variante Delta e resta in Chimocche che comande, Dome Post di Scindauri, i casi di Omicron a ieri in Dojevonde, in Besit Wea sono più di cente alla Fazza Vei, la vicepresidente regionale Riccardi. La variante ha scominciato a presentarsi in maniera semplice e più forte attaccata ai vinti di dicembre. E a son 637 news cash di Covid. Vinius furono in region tra gli ultimi svinti a 4 ore, a fronte di 6.600 di genuf tampons molecolars e cutuar di 1934 test di Svelz. Quattro i muarts, tra che i un om di 64 anni di Trieste, manchiati in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensive, cali in avvinti assist, in beziti pazienze ricoverate in ospedale, in altri charismedici, a son 283. E a si viaggerà domani il calendario dagli vaccini, sparati a cedose, poi fantaz dai 12 ai 17 anni, con particolare attenzione, perché i deboli e già con problemi di salute. La vaccina che sarà a Doprade, sarà che è Pfizer e la puntura, poi si è si fatte a 5 mesi di distanza dal cicli vaccinal precedente. A Tonaran, a Bjergi, Pluitart, 7 squelis dalla zona di Udin, per colpe dai casi di positività dai studenti. La decisione si adetia pade dal quarto istituto comprensivo, diretto di Paolo De Nardo, presidente provinciale dall'Associazione Nazionale dei Presiditi. Tre asilos e tre squelis primaris e une squelie medie avviergeranno gli sportis a i dis di genare, invece il che vina il 6-7. E ieri una decisione che padeva inchiappare, anche per c'è che non li erano in chimo stato ufficializzati, il calendario dagli lezioni alla sclarit De Nardo. Tutti i disni sui squelis a son biertis su cinque dis per settemane, dunque tra gli ultimi studenti salteranno domani unedì di scuole. La polizia dalla questura di Pordenon ha tirato il belancio dall'attività dal 2021. Quasi 3.000 intervents fads dai adiens dal questor Marco Dorisio. Convinci a voto personis restadis, 64 riclamadis par stalking e violencia in chiese. E iene cresci l'attività di prevenzione sul territorio. A son stas rinforcisa, l'accontato Dorisio, i dispositifs ordinaris e straordinaris di vigilance sul territorio. Anche facinti ricorsa i homes dal reparto di prevenzione dal crimine dalla polizia di Padue. Incidente di vore a buje in Tunkantir, da ora al centri commercial, un operario di Trenta Inche per causis, che anche i mossi e da ora a Ciri di Capì, ha l'ecolà dall'impalca dura, due l'acca a lavorare. Sul puest, a son rivas, da urmani i soccorsi, anche a quell'elicotter sanitario, che l'uomenati in condizioni sgriviste all'ospedale di Udin, l'home non sarebbe però in pericolo di vita. Avanti in mio ora, intanto, le scondizioni di salute di Maurizio Zamparini, l'imprenditore Furlan, di 80 anni, sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva dopo di un intervento chirurgico, ieri in da ora a praticare all'ospedale di Udin. L'ex presidente dalle società di Balondi, Palermo e Vignese, alzò dei sfuri di pericolo, all'estate spostate dal reparto subintensivo. Zamparini ha arrestato i ricomerati per causi isleari sallai in piese di un'eforma di peritonite che lui aveva chiapato, tedes, passate. All'estato un incidente stradale, via Palagnotta, sull'autostrada A4, tra la zona di Tisane, un'ecubia di San Giorgio di Noiare, che viaggiava in macchina col fì di un anno, si è chiatato davanti un esemplare di cinglar adulte, e non ha poduto fare nuove per sgindare, lui lo ha chiappato in plena. Il cinglar è morto sul colpo, ma la macchina è restata sfracassata. Di fortuna, nessuno è restato ferito, da urli, primi ricostruzioni, attraversa l'autostrada, ha restato tutt'un troppo di cinglarse. E anche per le snotte alle dute, torniamo ai Odissi domandi sere, sempre a Snufman col vinti. Mandi arrivi Odissi, buona serata. Grazie a tutti.